Mancano ancora una parte degli itinerari e delle fermate sulle linee degli autobus che l'AIR sta concordando con la provincia, così come al momento non ci sono né pensiline né servizi igienici. Slitta di almeno tre giorni la data dell'entrata in funzione del nuovo termine al bus unico che il sindaco di Avellino ha deciso di spostare da piazza Kennedy al piazzale antistante lo stadio Partenio Lombardi. Rispetto al termine fissato in precedenza per lunedì 3 infatti si passa a giovedì 6 febbraio salvo diverse indicazioni per modifiche in corso. Il nuovo programma di esercizio dei mezzi che ha subito un incremento del chilometraggio per il trasferimento del capolinea dovrebbe essere completato tra pochi giorni. Dai tragitti rimodulati manca circa il 30% dei volumi delle corse. A seguire saranno effettuate le ultime verifiche solo dopo l'azienda Trasporti Irpini si prenderà un paio di giorni per una capillare quando rapida campagna di informazione per gli utenti. La somma che la provincia ente committente per il trasporto pubblico locale dovrà sobbarcarsi per coprire l'allungamento dei tragitti dei bus è poco oltre i 300 mila euro. La cifra e i percorsi sono stato oggetto di un nuovo tavolo operativo tra i tecnici di Palazzo Caracciolo e quelli dell'AIR. Ma anche l'amministratore unico dell'azienda Trasporti Irpini Alberto Desio attende risposte dal comune sull'infrastrutturazione del terminal. Sull'area infatti non ci sono né ripari per la pioggia né i servizi igienici. Insomma sembra un capolinea nel deserto privo di qualsiasi struttura di supporto.